E ritorniamo in Elden Ring, direzione questa zona boschiva, o almeno così sembrerebbe dalla mappa. Ok, qua abbiamo qualcosa da raccogliere. Ceneri di asciiglia di terra. Nulla. Rientriamo. Mi pare di aver visto del fumo. No, una grazia era, era una grazia, ok. Andiamo a prenderlo subito. Qua si sale per andare qui e da quest'altro lato. Vabbè, noi però non ci interessa e rientriamo nel lago. No. 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 di evitare pure questo. In questa zona del lago non c'è assolutissimamente nulla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pare che ci sia nulla. Ok. 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 L'iconcina adesso E là stiamo andando Alla crotte Eccola qua Si chiama? Non me lo dice Si vedeva che qui rappresenta una crotte Dai Allora il mosoleo Che l'abbiamo trovato il primo qui E con la cassa L'abbiamo messo la cassa E qui Andiamo a mettere la cassa anche qua Proprio che tu non hai proprio da battere Faccio qualcosa No, qui il parco si fa da sopra a sotto Va bene Peccato Dopo pizzo ma c'è mancato Riproviamoci Ole Perfetto Audio Perfetto È Perfetto Stai passando? Rimini a questo e lo piazziamo qua Anche qui stessa storia All'interno non c'è nulla giusto Va bene Secondo ma solo l'ho trovato L'abbiamo qua Dietro forduto funeria 3 No la 5 mi serve Ma questa zona io non l'ho visitata per nulla Quindi è tutta quanta nuova Abbiamo Qui Intravedo Una bellissima grazia Ok Ok Bye Grazie a tutti Quanta è di vita, puttami, 10 HP e ti sono rimasto. Bastardo. Vittornia. Vittorio. 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 Animali saggi. Vittorio. 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 Oh, c'è una. Oh, c'è una. Oh, c'è una. Tre animali saggi, tre animali saggi. Eccola una. Oh, c'è una. Eccola qua. E siamo a due. Manca la terza. Ancola la terza che sarà. Dove sarà? Eccola. Perfetto. Possiamo finalmente entrare nella torre. Torre di testu. Ok. Grazie. 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 No, vedi che è sparito? Prendo l'arco, prendo Dov'è? Ok, pietra col dorsone, no, non quello che cercavamo Va bene, scendiamo Iniziamo il punto 1 e andiamo verso il punto 2 C'è un draghetto Qui questo mi serve per forza L'ho avvitato Eh, io ho pelato Ti cura, ti cura, ti cura, ti cura E' il paniterio Un po' di roba da raccogliere E allora Qui Punto 2 Un po' di roba da raccogliere Aia E' eccessivo Quanto abitaccio ho io? 221 Quindi io posso evocare Roba del genere No, evoca Riproviamo Ok, così abbiamo recuperato Dove sei ok ti cura ti cura ti cura ti fatti questo e curati anche di questo oh via 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 candy da stop off metti di qua nemico potente abbattuto attenzione ho tutto aperto nella battaglia allora abbiamo bucri grasso e chiave di scintipietra dell'accademia ok ok ah non c'è più nulla da vedere possiamo proseguire verso il punto 3 e abbiamo una bellissima grazia metti piano piano con la pietra che ci serviva abbiamo visto abbastanza scappa 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 vorrei c'è che ma non la posso aprire ah ok prendiamo queste ultime rune un altro e tre la zona l'abbiamo vista qua c'è qualcosa che possiamo visitare da qui questa è una zona che ho visto da sopra ok non mi interessa questa la si fa dopo andiamo indietro per di qua per essere un attimo sicuri che qui non ci sia nulla un'altra evitiamo ah lì però c'è qualcosa che devo passarci di mezzo devo passarci per forza proviamo facciamo così ok perfetto non mi hanno visto e soprattutto non mi hanno sentito allora questa vista questa vista questo lo possiamo togliere questo lo possiamo togliere questo lo possiamo togliere togliere e questo via 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 questo qua non so se è visibile o meno quindi qui mettiamo questo che ci devo andare questa zona non l'ho visitata qua c'è un dungeon questa zona l'ho visitata qua c'è una una galleria qua c'è il mauto Leo e qui e dove dobbiamo andare e qui finiamo qui il video e nel prossimo video andremo in questa grotta metteremo questo la grotta sotto la raia lucaria per cui ci vediamo nel prossimo episodio grazie a tutti